castello fiabesco buongiorno a tutti sta cominciando la nostra gara di macchine ahah, prenderò io il primo premio ah, lo vedremo oh no, aiutatemi oh no, è successo un incidente mi sa che serve il mio aiuto ops, vi è successo qualcosa porterò dalla dottoressa Aya controlliamo la situazione dottoressa Aya, dottoressa Aya eccomi qua, che è successo? mmm, sei tutto bagnato mmm, cricchetto, hai capito qualcosa? oh, è tutto aruginito allora ci serve un po' d'olio oh, grazie, posso parlare finalmente che bello, sono molto contenta ho paura che il mio gancio si sente male fammi vedere mmm, sì, te lo devo saldare vieni qua anche qui sono come nuovo, andiamo ah, sì e noi continuiamo la nostra gara oh, 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 oh oh, oh, no oh, oh, oh oh, no, oh, no aiuto, aiuto, ci serve l'aiuto qualcuno mi ha chiamato? eh? non posso andare le mie gomme si sono rotte ma io non riesco a passare qui chi ci porterà l'elicottero? uh, uh, uh posso volare che divertente eh, le mie gomme si sono rotte oh, te li devo gonfiare mi fa il solletico qui tutto a posto ok però mi fa male uh, uh, ci sei graffiato ok ecco cosa mi servirà così porterò via le pietre ha vinto il numero 82 oh, che cosa ho perso? oh, ah, ah, ah hai perso la mia vittoria mettiamo a posto la nostra piscina per la prossima gara uh, ragazzi mi dispiace veramente che avete perso la gara non ti preoccupare ci vediamo la prossima volta ah, ah, ah sì, perché adesso ci sentiamo molto bene ah, ah spero che non avrò tanto lavoro la prossima volta ah, ah, ah ah, ah, ah ah, ah, ah